Una prima edizione si tratta di una domenica di festa passata con la famiglia dove oltre ad avere come cornice il mercato domenicale ampliato di prodotti sia artigianali che prodotti alimentari propri del territorio abbiamo anche tante altre cose, tanti eventi correlati attorno a questo evento c'è il Museo Nazionale Archeologico che è aperto tutta la giornata con visite gratuite anche le operatrici dell'ufficio turistico accompagneranno i visitatori per le visite gratuite su tutto il borgo camplese poi ci saranno delle passeggiate di north walking, lo stesso a passo libero e a camminata nordica e poi escursioni nella famosa valle degli Scogliattoli del Monte Foltrone bellissima escursione e io consiglio a tutti e poi tanti giochi ed animazioni nel pomeriggio per i bambini abbiamo anche i calzaturieri della vicina regione Marche che sono calzaturieri ma sono produttori quindi avremo la possibilità di acquistare anche le scarpe a prezzo di fabbrica e poi gusterete tutte le pietanze che vengono fatte dai vari ristoranti e in piazza c'è anche uno stand dell'associazione dove si può gustare anche i tagliolini cacio e pepe quindi vi aspettiamo tutti, sarà una domenica piena di emozioni una domenica sorniona, vediamo!